Quindi come potrei io non sentirmi onorata e commossa in questo momento? E poi conosco bene Cinzia e Mauro e so anche quanta passione e quanto impegno ci mettono. Beh, il titolo è bellissimo, Volere e Potere. E forse ha ragione il nostro sindaco a dire che non sempre ciò che si vuole è poi ciò che si ottiene. E così tra Volere e Potere c'è un mare in tempesta, fatto di passioni, ovviamente, fatto di lavoro, fatto di successi e qualche volta anche di insuccessi, per l'amor di Dio. E quindi alla fine tra Volere e Potere ci corre un mare. Noi in questo mare dobbiamo, come dire, navigarlo tutti i giorni, quello che fanno i nostri ragazzi. Quindi non vi abbattete se qualche volta non riuscite bene in quello che state facendo. Se qualche volta qualche quattro si abbatte sulla vostra barca, non ha nessuna importanza. Questo non conta, contano le cose essenziali.